Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPLI, tra Montelupo ed Empoli Est, chiusa la corsia di sorpasso in entrambe le direzioni, con chiusura dello svincolo di Empoli Est in ingresso in direzione Firenze. Per questo motivo ci sono rallentamenti tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est in direzione Mare e tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Sul raccordo Siena-Bettolle per lavori ci sono rallentamenti in entrambe le direzioni tra Casetta-Monte Aperti e Casselnuovo-Berardenga e tra Rapolano e Colonna del Grillo. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori di manutenzione, restringimento di carreggiata dal chilometro 47 al chilometro 50. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!